Schianto frontale tra due auto sulla statale adriatica sud a Metaurilia di Fano, il luogo in cui è avvenuto l'incidente è in cima alla lista nera dei punti di Fano dove si verificano gli incidenti più gravi in assoluto. Questa mattina lo schianto è avvenuto poco dopo le 7.30, due le auto coinvolte, un'utilitaria di marca Hyundai guidata da un settantenne, Alfio Anniballi, sposato, tre figlie, che abita a 20 metri dal punto dello schianto e una Land Rover condotta da una donna di 40 anni di Fano. Nell'urto frontale tra le due auto la peggio è andata al settantenne che per l'impatto violentissimo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato trovato dai soccorritori riverso sull'asfalto ai quali l'uomo avrebbe subito detto di non avere più la sensibilità alle gambe. Data l'età dell'uomo e le lesioni riportate sul posto è atterrata anche l'eliambulanza attivata dai sanitari del 118 che ha trasportato il ferito ad Ancona. La dinamica dell'incidente è piuttosto complessa e al vaglio della polizia locale di Fano intervenuta sul posto con due pattuglie, una per i rilievi ed un'altra per regolamentare il traffico data l'ora piuttosto intenso soprattutto in direzione nord. Dai primi rilievi sembrerebbe che Anniballi appena uscito di casa si è messo sulla statale svoltando a sinistra verso Fano quando è stato centrato sulla parte sinistra anteriore dalla Land Rover che procedeva in direzione Marotta e che per effetto del testa coda le due auto si siano urtate anche una seconda volta come mostrano le tracce di vernice presenti sulla carrozzeria. Arrivati sul posto anche due mezzi dei vigi del fuoco da Fano per mettere in sicurezza l'area e le auto danneggiate oltre che i tecnici dell'ANAS. Anche la donna al volante del SUV è ricorsa alle cure dei sanitari per lesioni non gravi ed è stata portata per accertamenti all'ospedale Santa Croce mentre l'uomo è stato ricoverato all'ospedale regionale torrette di Ancona e la prognosi al momento resta riservata. Ma il tributo della famiglia Anniballi su questa strada è pesante perché oltre una trentina di anni fa morì il padre Oddo travolto in sella al suo motorino. Aveva ironia della sorte anche lui 70 anni al momento dell'incidente mentre 500 metri più avanti verso Fano ancora prima morì lo zio suo da parte di madre Nazareno Cecchini all'epoca quarantenne. Inutile dire che quest'ultimo tragico incidente sempre nello stesso tratto di strada ha riacceso gli animi dei residenti stanchi della lunga scia di sangue lasciata qui ed esasperati dall'immobilismo delle parti interessate, ANAS, Comune, nonostante gli innumerevoli appelli fatti. Ora più che mai chiedono che questo tratto di statale sia reso immediatamente più sicuro per evitare altre tragedie.